L'importante è distinguere tra le cose difficili e le cose impossibili. Le cose difficili, pian pianino, con costanza, con pazienza, le fai. Le cose impossibili no, e devi capire quella differenza lì, perché a volte non ci riesci e ti ostini. Non è vero questa cosa che si dice, se vuoi puoi. Puoi volere tantissimo, ma magari non ci riesci. E quindi bisogna invece costantemente, come col navigatore, ricalcolare percorso.